e ciao a tutti ragazzi e ben tornati sul mio canale oggi ragazzi siamo qui in questo nuovo chiamiamolo unboxing sbustamento di come vedete un po' di prodottini pokemon e che dire ragazzi potrei iniziare a mostrarveli con calma e farvi vedere per l'appunto cosa siamo andati ad acquistare come vedete qui c'è qualcosa che abbiamo già visto e per l'appunto abbiamo altre due carte della lega pokemon ma in aggiunta ragazzi stavolta anche le bustine della lega e che dire direi che possiamo andare ad aprire una delle due carte un'altra lasciamo chiusa direi di andare ad aprire questa visto che l'altra volta non l'avevamo aperta li vediamo per l'appunto come si presenta qui abbiamo tutta la parte guardate che bella ricorda ovviamente sono passati tornei dove ha vinto l'italiano monolulu e la carta tirata fuori di nostro pikachu contro sempre in italiano quindi questi comunque alla veloce visto che li abbiamo già visti e poi ragazzi abbiamo le due bustine con sei carte da gioco aggiuntiva direi che una la teniamo sigillata e andiamo ad aprire questa bustina pacchettino in plastica non aspettavo più in carta già distrutto non so cosa si trova sinceramente so che mia sorella ne ha aperto uno prima perché ce l'aveva anche lei e non ha trovato chissà che grandi robe abbiamo un codicino e andiamo a vedere cosa abbiamo trovato abbiamo un energia in versione con il simbolino della lega poi una penny con sempre il simbolino della lega poi abbiamo un Bax Calibur con il simbolino della lega un Driflum con il simbolino della lega e campo in spiaggia con il simbolino della lega e energia base soprattutto le mie scusate se guardo ma sono tutte con il simbolino della lega quelle di mia sorella erano 3 e 3 sai tu quindi probabilmente c'è un errore l'altro vedrò per l'appunto di di aprirlo almeno ah ho trovato si carta di energia alternativa persino un pokemon speciale come un pokemon extra a crystal e un pokemon via astro quindi bisogna avere proprio 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 culo quindi magari sull'altro pacchettino vedrò mai il proprio in privato poi ragazzi andiamo a vedere queste carte non gradate dove abbiamo i primis questo pj8 pj8 alternative ho sbagliato devo fingere prima quello però pj8 alternative tipo sopra un semaforo mi piaceva poi ho scoperto dopo che in realtà le avevano tutte e tre quindi piccolo spoiler questo non è pj8 infatti qui abbiamo pj molto carino carti intiro tenute bene e qua non c'è pj8 per l'appunto ho scoperto che ce l'arrivo non lo prenderò penso in fiera al garda con se e quando ci andremo ma abbiamo un blackziken v-max che secondo me ha il suo perché ci sta con questo alternative con colpo rapido e ho voluto portarmelo a casa ci sta e poi che dire ragazzi andiamo con le carte gradate una psa e una grande che dovrò oltretutto trasferire il codicino con calma e forse potrei anche farla rigradare per avere quello aggiornato quello un po' più bello e abbiamo con un bel 9 questo pikachu special delivery visto che già avevo il xavi da special delivery ho oltretutto sempre 9 e come vedete il pokemon center qua c'è scritto canada holo e abbiamo il nostro special delivery pikachu molto bellino carino preso già gradato e tutto quindi ci sta anche questo psa come l'altro che ho io quindi top infine ho visto che aveva questa mi interessava tanto il discorso del valore tutto però secondo me è bella anche perchè è vecchia questa carta giapponese che abbiamo questo Lugia come vedete non ho ne nulla ma è del poke park 2005 Lugia spinning ship Lugia promo 2005 Nel mint to mint 8 di grata come vedete veramente molto bella carta promo quindi credo che era per l'appunto così senza holo né nulla ci sta ho avuto visto che comunque la pagate il prezzo diciamo giusto appunto da negozio che c'è a Montichiari qui in provincia di Brescia che se siete dalla zona vi consiglio non ci vado spesso però comunque trovate adesso oltretutto l'aggiornato rispetto a quando andavo io tra vivete i tempi ad acquistare veramente aggiornato tutto il negozio c'è un sacco sacco di roba e organizzato in un altro modo adesso sono anche un po' di più a gestirsi e hanno veramente parecchie roba carte collezionabili di tutti i tipi e quindi lasciamo stare proprio dettagli dettagli e quindi non saprei più che dire ragazzi spero che quindi questo video con questo bustamento unboxing vi sia piaciuto quindi come al solito ragazzi vi voglio fare un bel mi piace qua sotto questo video iscrivetevi al canale se ancora ne avete fatto commentate su cosa ne pensate per appunto di questi prodotti se mi consigliate di aprire la bustina l'altra che non ho aperto o meno cosa avete trovato voi eventualmente le bustine maldetti quei l'altra volta queste non ne hanno date ma a dettagli non capisco perché alcuni circoli no ma lasciamo credere vi ricordo per appunto anche tutti i linkuti nella descrizione crasher come sempre nel video noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video io vi saluto e ciao ciao